Quali sono i vostri prodotti di punta? Rivet nasce con il rivetto a strappo e il core business dell'azienda sono appunto i rivetti quindi rivetti in rame in particolare, rame col chiodottone, chiodobronzo, rivetti in acciaio inossidabile, ma in particolare negli ultimi anni sempre di più rivetti in alluminio colorati. Perché? Perché il rame sul tetto viene utilizzato sempre meno e hanno preso largo consumo tutte queste lamiere in alluminio o preverniciate in vari colori. Nell'edilizia da tempo si è affacciato il cliente non professionale. È un aspetto che riguarda anche voi? No, perché tutti i nostri prodotti si rivolgono a utenti professionali. Qual è il tipo di rapporto con i distributori? Rivet vuole essere un partner vicino al distributore, un partner non solo fornitore vendita, ma un partner per la consulenza. Qual è il grado di preparazione dei distributori? All'interno del magazzino Edile hanno iniziato ad arricchire il proprio spazio con prodotti di ferramenta. Quindi noi ci proponiamo come allestitori per creare un rivet point all'interno del magazzino. Come sta cambiando il mondo della lattoneria? Dalla copertura tradizionale, grecata, con fissaggio a vite, sempre di più sta prendendo piede tutto il mondo delle coperture agrafate, perché anche sotto l'aspetto estetico è molto più bello, è molto più performante. I fissaggi sono tutti a scomparsa, non si vede un tassello, non si vede un rivetto e va incontro a quelle che sono richieste per il rivestimento di edifici moderni. In edilizia aumenta la richiesta di soluzioni per il risparmio dell'energia. Come rispondete a questa esigenza? Rivet in questi ultimi anni ha prestato molta attenzione a tutto quello che è risparmio energetico e in particolare nel mondo del fotovoltaico. Quindi ha sviluppato dei rivetti particolari con guarnizione per fissare tutti quelli che sono i sosteni, le staffe per i pannelli fotovoltaici. Al rivetto poi diamo la relativa attrezzatura per l'applicazione di questi rivetti.